Salve gente, sono la Russia ed eccovi tornati su un nuovo gameplay di Civilization 5. C'eravamo lasciati in Civilization 5 con la nostra eroica fazione coreana intenta a distruggere i cinesi, questi maletti. Siamo in guerra con loro, ricordate gente, noi dobbiamo conquistare il territorio cinese perché sono un tiranno, sì sono un tiranno, comunque ok, perfetto. La nostra situazione di guerra è abbastanza pericolante perché ricordate il nostro obiettivo inizialmente di questa prima fase della nostra guerra è attaccare, sterminare tutto quello che si trova davanti a noi di Guanzu. Non c'è anche una città lì che è contro noi. Innanzitutto. Quante unità ci sono qui? Troppe! Troppe unità! Gente non va bene, non va bene. Ok gente, perfetto. Ho un'idea. Ok. Dovevo attaccare uno in quest'unità. Qual è la più cazzuta? Attacchiamo questi qua. Ok poi sembra un più pop e molly. Questi qua li mandiamo a costruire lì questa roba qua. Non mi ricordo come si chiama, un vuoto in memoria, gente. E il nostro bellissimo canone, lo mando dopo. Gente, ho un'idea. Acquistiamo un colono. E mandiamo il nostro colono a costruire una città qua, piuttosto. Questa cavalleria dove la mandiamo? Ah sì, all'attacco. Certo. Ok gente, continuiamo ad attaccare questi qua. Ok. E anche quest'analaccio. Nancino, nanchino. Minchino. Questa città qui, diciamo. Ok. Perfetto gente. Ardi. Ah, al dir poco perfetto. Questa qua si sta riparando. No, mandiamola fuori dal territorio cinese. Ok. Questi lavoratori qua, dove li mandiamo, gente? Facciamo per vedere questi lavoratori. Scegli la produzione. No. Cosa si deve produrre? Ok. Uuuuh. Su, dopo il moschetto. Bene. Dove li vuoi distrirli? Ah, ah, mi stava andando via la voce. Vuoi distrirli? Ah, è questo. Andiamo avanti. Ok. Perfetto, gente. Oh, cavolo. Ci stanno attaccando. Ci stanno attaccando. Guarda, gente. Ok. Sticcio questi. Ok, non voglio più attaccare quelli. Ok. Questi. Che cosa è successo, gente? Ok, ne è rimasto solo uno. Ok, gli stiamo aprendo il culo, gente. Gli stiamo aprendo il culo. Perfetto. Perfetto. A dire, poco perfetto. Questi qua mandiamoli in difesa. Questi qua mandiamoli qua. E posso attaccarli? No. Quindi mandiamoli qua dietro. Ok. C'è questi qua. Faccio ricostruire la fattoria. Io ho. Di Giotopia. E... Boh. Nella vecchia fattoria. Io, io, io. C'è la capanna di Giotopia. Io, io, io. C'è la capanna di Giotopia. Ok. Torno successivo. Perfetto. Ok. Costruiremo una fattoria. Questi qua mandiamoli qui. Questi qua mandiamoli qui. Questi qua li ho confiato fatto. No. Coloni. Ah, già sì. Coloni. Ascettando la coppia possiamo costruire. Costruiamola qua. Qua. Boh. Non so, gente. Ok. Ok. Questo qua. Facciamolo lì. Questo qua ovviamente mandiamolo all'assalto. Sempre. Hanno un grande generale l'oro. Non mi dire questo. Sì, hanno un grande generale. Merda. Tanta merda. Vittoria decisiva, dai. Ho sudato freddo per un momento, gente. So che ci battesse. Invece no. Che sei più forte. Ok. Scusa, ma io sto bene, ma... I fuochi andavano di là, ma l'hanno compito lì. Boh, gente. Non capisco. Perché si è bloccato? Gente. Ah, ecco. Perché va così lento? Va così lento, gente. Ok. Ok, gente. Dove lo costruiamo? Soldato? Sì. Se questi qua ti dono ordine. Noi daremo ordine a loro. No, questi qua. Che opere con questi? Che magari questo l'itero... No! Non lo attaccherebbe. Pazienza. No, ne è rimasto uno. Ma non vuoi proprio creepare? Ok. Attacchiamoli... Più volte possiamo. Perfetto, gente. Molto bene. No, questo qua facevo che ripararlo del tutto. Ah, hanno costretto la parte di grande burgo. Ok. Mi tenevo ad attaccare. Mi stiamo aprendo un culo. Quadrato. Di tutte le forme, anzi. Poi va patriottico. Poi va patriottico. Oh no. Perché no? Ok. C'è un guerriero con spada lunga. Perché si crea più velocemente. Le nostre unità sono in movimento. La Cina non ha ormai più speranze. L'unica speranza che ha è di avere una sepoltura. Del resto. E vano. Perché queste unità vanno qua e tornano sulla terra? Boh. Ok. Andiamo in movimento. Oh. Cazzo. Ho stata una scelta sbagliata. Io cactus. Ma questa unità qua rimane sembra qui. Boh. Facciamo a dormire. Questa qua la faccio qui. La faccio qui. Questa qua mi andevolo qua. Ho fatto male a mandare questa unità qua. Adesso me la martelleranno in niente. Una fabbrica. Dai. Facciamo una fabbrica. Visto. Questo qua è il martellamento. Così vivranno. Questa verità. Ho fatto una cacciata. Visto. E la cacciata è stata servita. Perfetto. Io non ricordo assato. Oh. Non vogliono morire. Esti qua. Continuiamo ad attaccarli. Ok. Fertilizzanti. Conduce dinamite. La dinamite mi piace. Sì. Fertilizzanti. Già fatto. Fertilizzanti. Ok. Abbiamo costruito la nuova città. Perfetto. A dire poco perfetto. Fertilizzanti. Ok. Faro. Capriamo un po' perché all'inizio la città non produrrà niente. Porta. Mettiamo la produzione. E cosa facciamo? Oh. Ok. E la fabbrica? Seems legit. Facciamo Machu Picchu. Che quelli là lo volevano. Qua cosa facciamo? Facciamo una miniera. Questi qua li mandiamo dietro. Assieme a... Oh. Questi qua li lasciamo qua. No. Forse è meglio che andiamo... Andiamo avanti con questi qua. Perché... Se no non va bene. Perfetto. Passiamo con questa nuova di qua che così almeno la curiamo. Ok. Perfetto. Perfetto gente non hanno scampo. Allora che ho costruito la città lì. Non hanno proprio... Un po' più impegnati nel mondo. Ah. Produzione. Però noi abbiamo un popolo più piccolo. Aha. Ok. Perfetto gente. Perfetto. Però purtroppo anche questa volta dobbiamo salutarci. Mettete mi piace al video. Commentate. E iscrivetevi al mio canale se volete vedere altri video. E buona giornata a tutti gente. Qui la Rus. Ciao.